Lo strazio dei familiari delle vittime, arrivati oggi a Debreseit, la località a sud di Addis Abeba, dove domenica mattina è precipitato il volo dell'Ethiopian Airline. Perché lei, perché mia figlia? Continua a ripetere questa donna, che è la madre di Ayanto Girmay, una delle hostess di bordo. Quello che chiedo è solo di riavere il corpo di mia figlia, qualunque cosa sia accaduta, ora devo darle una sepoltura. Il recupero e il riconoscimento delle salme sarà però un processo lunghissimo e complicato, tanto che il governo etiope ha chiesto aiuto ad una squadra di esperti arrivati da Israele. Sul luogo dello schianto, intanto, gli escavatori continuano a lavorare, anche se, dice questo responsabile dei soccorsi, le operazioni di ricerca sono terminate. Ieri sono state ritrovate, infatti, le scatole nere, contengono i nastri dove sono registrati tutti i dati tecnici del volo e i dialoghi all'interno della cabina di pilotaggio. Quelle registrazioni potrebbero dire perché il Boeing 737 Max è precipitato sei minuti dopo il decollo.